Buongiorno, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento meteo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e attivare la campanellina. Parliamo oggi del tempo previsto nello specifico della giornata di lunedì 14, quando un'irruzione di aria gelida di origine artico-continentale colpirà specie le regioni settentrionali. Infatti entrarebbe la termica a meno 4 o meno 5 a 1500 metri di quota sulla pianura padana. Le correnti si disporranno da ovest o da nord con raffiche di ostro e libeccio su tutta la pianura padana e sul resto delle regioni settentrionali di nord-ovest. Ecco che infatti, visto la presenza di precipitazioni e le temperature negative in quota, avremo le prime precipitazioni che dovrebbero iniziare nella mattinata di lunedì 14, specie tra Alessantrino, Pavese e sul basso Piemonte, con possibili fiocchi ma mista pioggia. Le precipitazioni intense a carattere nevoso poi si avranno nella nottata tra la 1 e le 4 di lunedì 14, quando avremo fortissime copiose nevicate tra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, dove ci aspettiamo accumuli fino a 10-20 cm di 300 metri sul basso Piemonte e sulla bassa Lombardia. Poi attorno alle 6-7 di mattina di martedì 15 le precipitazioni, seppur con temperature negative, saranno costrette a tramontare in pioggia mista neve oppure in pioggia a causa dell'indebolimento del cuscino gelido. Questa è una tendenza con probabilità molto elevate e domani si avranno tutti i dettagli più precisi.